Colpiti e derubati mentre percorrevano a piedi due vie nel pieno centro di Padova poco dopo le 23. Le rapine sono state messe a segno in via Barbarigo e in via Euganea con modalità piuttosto simili. Vittima prima colpita la testa, poi derubata e ad una decina di minuti di distanza l'una dall'altra. Sul fatto sta indagando la polizia. Un aiuto potrebbe arrivare dai filmati delle telecamere di videosorveglianza.